Buongiorno ceramica, buongiorno ceramica 2020 edizione speciale, buongiorno da Castellamonte, buongiorno da Brenno Pesci, io lavoro la terra rossa di Castellamonte da più di 40 anni, oggi facciamo una sculturina, l'argilla rossa di Castellamonte è una terra adatta, idonea alla scultura, facciamo il busto, grazie prendiamo un pochettino di argilla ancora e facciamo il volto del busto che abbiamo appena terminato un pochettino di argilla, un pochettino di argilla, un po' di barbotina, finito 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 finito